Non potevo di certo lasciare il canale, sono come ai vecchi tempi, senza green screen, con una qualità merdosa, ma sono sempre i miei vecchi video, erano buoni, però sono voluto ritornare a questa qualità bruttissima perché fare video fatti male ha il suo speciale, e cioè la libertà di fare un video quando lo si vuole lui. In un canale fatto bene bisogna fare i video pianificati, editarli bene, e beh, devi guardare su tutte le cose, che il video è tagliato bene così, ma sul nostro canale noi i video non ci interessava se uscivano male, noi li facevamo per divertirci, invece credo che adesso sul nuovo canale che ho io sto un pochino impegnato nel farlo bene e non mi sto più divertendo così tanto come ai vecchi tempi, quindi beh, probabilmente ritorneranno i video sul canale. E la cosa più bella? Angel non lo sa ancora, però mi sembrava troppo brutto lasciare questo canale, d'altronde noi siamo i Vinmat, dai, e mi raccomando chiamatemi Fox perché molti mi chiamano con il nome del canale, non mi piace nulla. E comunque, siamo i Vinmat, non è che potevamo scomparire così dal nulla, è canale cringe, però ci siamo divertiti, qui ho imparato tanta di quella roba che, boh, non so dove imparare, mi mancano pure le parole, questo è il bello. E questi video sono fatti a cazzo di cane, quindi posso fare quello che voglio io, e quindi beh, continuerò a fare video sul tuo canale, forse, infatti, mi mancano le parole, quindi per vento sono ritornati i video a cazzo di cane, non mi interessa, li faccio divertirmi, quindi per ediuso non me ne frega niente. Quindi bye bye, rifaccio video, ciao ciao.